Ansa, Roma, 38, sarà gremito lo stadio di San Siro lunedì 13 novembre, ore 20 e 45, quando accoglierà la nazionale per la gara di ritorno del play-off mondiale con la Svezia. La FIG, informa una nota, in considerazione dell'elevata richiesta di biglietti, ha deciso di mettere in vendita dalle 17 di oggi anche i tagliandi del Terzo Anello Verde al prezzo di 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita. I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita della Ticetone e sui siti www.vivoazzurro.it e www.ticetone.it